Alta pressione con massimi sull'Europa centro orientale e attivazione di un flusso umido meridionale. Un'area depressionare atlantica tenderà ad avvicinarsi alla nostra penisola a partire da venerdì. In Toscana, giovedì 23 dicembre, nuvoloso o molto nuvoloso, con un rapido e ulteriore aumento della nuvolosità. Dal pomeriggio piogge sparse di debole intensità moderatamente intensa in serata, neve in appennino inizialmente intorno a 1300-1500 metri, venti inizialmente deboli sud orientali in graduale rinforzo da sud-sud-ovest, mari con moto ondose in aumento fino a mari mossi in serata, temperature in calole minime, stazionari e in lieve calole massime in graduale aumento in montagna. Sul territorio provinciale da nuvoloso accoperto con deboli piogge dal pomeriggio, più intensa in serata. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 1, massima 7 gradi. In Valle del Serchio e zone montane, minima 1, massima 8. A Viareggio e sul litorale, minima 4, massima 11 gradi. Venerdì molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse e insistenti, temperature in sensibile aumento.